Ciao Tiziana, un saluto da tutti quanti, bentornati alla puntata di questa settimana dell'ottava freccia. Negli ultimi appuntamenti mi avete un pochino accompagnato attraverso quelle che sono state le tappe più significative del mio ultimo viaggio in America, però vi avevo promesso che tra queste ci sarebbe stato anche un luogo molto famoso per noi appassionati del mondo country e anche della storia, diciamo, west, della storia di frontiera. Questo è il cancello del Little Big Horn Battlefield National Monument in Montana, ovvero di quella zona che oggi appunto è monumento nazionale dove si svolse la battaglia di Little Big Horn. Sicuramente tutti voi l'avete sentita nominare, la battaglia di Custer contro una alleanza molto significativa, formidabile, che non ha poi avuto pari nella storia tra i guerrieri Lakota, Cheyenne e Arapaou, guidati da personaggi molto famosi, molto importanti, da grandi personalità come Toro Seduto, come Cavallo Pazzo e come Lame White Man. La battaglia di Little Big Horn è stata particolarmente significativa, viene ricordata forse come la più importante delle cosiddette guerre indiane che si svolsero sulle Black Heels. Le Black Heels erano un territorio particolarmente caro al governo americano per ragioni strettamente economiche, in quanto era molto ricco d'oro. Ora, il perché, la ragione di questa battaglia, da un punto di vista proprio strettamente storico, risiede in una falla nel secondo trattato di Fort Laramie, che era avvenuto al termine della guerra di Nuvola Rossa, perché questo trattato appunto delimitava quelli che erano i confini dell'ampia riserva Sioux, ma lasciava anche un'ampia zona franca, un territorio di nessuno, che naturalmente generava forti conflitti, frizioni e quant'altro. Ma, in realtà, lo spirito che animò l'alleanza tra le popolazioni native, in questo caso la cota Cheyenne-Arapaou, Lo spirito era molto più forte, in qualche modo questa formidabile alleanza appoggiava su basi, su un sentimento di rivalsa che aveva ragioni molto più profonde e un pochino più antiche. Tutti quanti voi avete sicuramente sentito parlare del massacro di Sand Creek. È avvenuto nel 1864, vicino appunto al fiume Sand Creek, e le popolazioni, principalmente la popolazione Cheyenne e qualche Arapaou, circa 600 persone, vennero sterminate, erano principalmente donne, bambini, anziani, sterminate a tradimento dal governo americano. Fu veramente un massacro senza precedenti, che venne in qualche modo reiterato soltanto 4 anni dopo, quindi nel 1868, quando gli Cheyenne, superstiti di Sand Creek, erano gli Cheyenne di capo pentola nera, un grandissimo capo di pace tra le altre cose, vennero nuovamente raggiunti, esterminati presso il fiume Washita, e anche in quel caso si trattava di donne, si trattava di bambini, si trattava di anziani, che tra l'altro si stavano spostando da una riserva all'altra per eseguire un ordine governativo, quindi furono veramente colpiti a tradimento. Allora, è facile, comprendendo questi due eventi, capire anche quale fosse lo spirito che in qualche modo animava le popolazioni native nell'affrontare Custer, anche perché fu proprio Custer a guidare l'esercito americano contro le popolazioni native di Washita. Quindi, in questo territorio, oggi, troviamo in qualche modo una commemorazione di quelli che furono i caduti in battaglia. Voi vedete che su queste colline ci sono delle steli, ci sono delle piccole lapidi, bianche per quelli che erano i caduti dell'esercito americano, e nere per i nativi americani. Ci sono anche delle, in qualche modo, delle commemorazioni che ricordano comunque la storia di quelli che furono anche dei grandissimi uomini di medicina, come Toro Seduto, dei grandissimi guerrieri come Cavallo Pazzo. Quello che però spesso non viene ricordato, in qualche modo quello di cui spesso non si parla, è che un pochino distante da tutte queste steli, ce n'è una isolata, ce n'è una in qualche modo silenziosa, dove di solito le persone non si fermano. E questa stela, su cui è scritto, per chi non fosse magari molto pratico d'inglese, in memoria dei cavalli del VII Cavalleria, uccisi in battaglia il 25 giugno del 1876, che è chiaramente la data della battaglia, e poi seppelliti qui, nel luglio 1881, sotto la supervisione del tenente Rowe, del II Cavalleria. Questa stela, questa pietra schietta, in qualche modo solitaria, ci fa riflettere, ci fa pensare un pochino, ci fa pensare a quello che è il legame con il cavallo. Purtroppo oggi si tende a vedere il cavallo, soprattutto in chiave sportiva, bene che vada come compagno per la competizione, male che vada purtroppo come strumento per la competizione. Ma forse dovremmo fermarci a pensare al fatto che il cavallo, nella storia, è stato veramente un compagno per l'uomo, è stato veramente, in qualche modo, un elemento fondamentale che ha consentito all'uomo di arrivare dove è arrivato. E con il cavallo si è formato una sorta di cameratismo, quel cameratismo tipico di quando si affida la propria vita a qualcuno e si chiede al proprio compagno di affidarci la propria. Adesso io non voglio essere neanche troppo poetica, non era assolutamente tutto rose e fiori, era sicuramente, il cavallo veniva utilizzato anche in modo molto duro, perché comunque era una vita dura, fatta di leggi, in tutto sommato, abbastanza spietate. Però forse quello che si chiedeva al cavallo non era diverso da quello che si chiede, e si chiedeva ad ogni altro essere umano, cioè quello di combattere insieme per la sopravvivenza. Ed è proprio questa lotta per la sopravvivenza che i cavalli selvaggi dell'open range americano ancora oggi devono in qualche modo perpetuare giorno dopo giorno. E parleremo di questo la settimana prossima, nel prossimo appuntamento con l'ottava freccia, quindi non mancate, un bacione grandissimo a Tiziana e a tutti voi!